Musica Andiamo a vedere subito dal Corriere Adriatico come sono andate le elezioni amministrative. Allora, il Partito Democratico in affanno. Crescono i 5 Stelle a Mondolfo, eletto sindaco il giovane Barbieri, pensate a 27 anni, sindaco di Mondolfo, mentre Fossombrone registra il mai contento della riforma sanitaria. C'è questo pezzo, quest'articolo con la grafica, vedete com'è andata. Comune di Fermignano, Cleri 22,5%, Mauro Grossi 17,34%, Emanuele Feduzzi 28,26%. Mentre per quanto, poi c'è Capucci 2,99% e Nicoletta Bonci, Fermignano Nuova 29,33%, sostenuta da Fermignano Nuova. Fossombrone, Bonci il 48,70%, supera Michele e Bonci è sostenuto dal Movimento 5 Stelle. Chiara Billi ha preso il 46,30%, sostenuto da Unione per Fossombrone, mentre Roberta Vico della Lega Nord 4,99%. A Gradara invece il 67% dei voti sono finiti a Gasperi, Filippo Gasperi, della lista civica per Gradara, mentre il suo sfidante, Luis Miguel Guerrini, del 5 Stelle, il 32,93%. Le elezioni amministrative del 2016 hanno chiamato alle urne nove comuni, di cui i principali sono Mondolfo, Fossombrone, Fermignano, come dicevamo. Questo è il Correa Adriatico, ma sotto ancora gli altri comuni, velocemente, a Orciano, Marco Gasparini 36%, Stefano Bacchiocchi 63,99%, dunque Bacchiocchi viene riconfermato sindaco di Orciano, con 663 preferenze, mentre, come dicevamo, a Mondolfo, Nicola Barbieri 45,27%, contro Locarini il 18%, Berluti il 21%, Berluti Grillino, mentre Silvestrini ha preso il 15,44%. Mercatino Conca, vedete, la passata Lavanna, Omar Lavanna con il 68,82%, Sassofeltro passa a Bruno Ciucci e a Barchi e a Mondavio, si trattava soltanto di superare il quorum, perché non c'erano sfidanti, soltanto unici, c'era soltanto un candidato, per cui il quorum superato al 50%, quindi Claudio Patrignani 51,70%, sindaco di Barchi e sindaco di Mondavio eletto Mirko Zenobi con il 54,19%. Questa è la fotografia di come sono andate le cose nel comune di Pesaro. L'analisi del resto del Carlino sulle elezioni comunali, anche qui il titolo, la sorpresa trasversale di Nicola Barbieri, a Mondolfo bocciati il PD e l'amministrazione uscente. Ricordiamo che a Mondolfo c'era Talè che poi è andato in regione, quindi Partito Democratico. La lista Marotta Unita sconvolge gli equilibri politici. Nei nove comuni ha votato il 67,71% con un massimo di 77,71%. A Mercatino Conca e a Fermignano, trainato dai cinque candidati, minimi a Barchi con il 52,70% e a Mondavio con il 54,18%. Lì c'è un recuso, non si capisce bene. Poi a Orciano, Orciano tutto resta così com'è, c'entra il poker Stefano Bacchiocchi con la sua lista civica di centrodestra e c'è aria di ribaltone, scrive Franceschetti questa mattina sul giornale, sul Carlino, c'è aria di ribaltone storico a Mondolfo. Dopo vent'anni consecutivi di governo il centrosinistra appare destinato alla sconfitta, almeno analizzando i dati delle prime sette sezioni disponibili sulle 15 totali, che sono i 16 di Mondolfo. Insomma, numeri che per la lista unica del candidato sindaco Mario Silvestrini sono davvero impietosi. Ok, questa è la pagina del resto del Carlino, sotto da Fossombrone, prima Mondavio, adesso Fossombrone, il Movimento 5 Stelle travolge Chiarabilli e compagnia, il centrosinistra paga il giudizio negativo sull'amministrazione uscente guidata da Pelagaggia. 12 sezioni su 12, quindi dati definitivi, 46% Chiarabilli, Gabriele Bonci 50% della lista civica del Movimento 5 Stelle e la leghista Vico il 3,6%. Sono frastornato e non capisco ancora cosa sia successo, siamo tutti molto su di giri e festeggiamo. Si esprime così del tutto stupito e incredulo, contento e magari anche un po' disorientato per l'emozione comprensibile, Gabriele Bonci, il candidato dei 5 Stelle da poche ore, neo sindaco di Fossombrone. Dunque è questa la sorpresa, la grande novità che esce fuori dalle urne, da questa tornata amministrativa, sulla quale certamente bisognerà riflettere, lo faranno anche se poi i politici trovano sempre il modo per dire che non hanno mai perso, però sicuramente bisognerà fare un'analisi, chiaramente la faranno con le grandi città, Roma insegna o insegnerà, adesso vedremo, però insomma questa è un po' la situazione, questo è quello che è successo nella nostra provincia. Poi per gli sportivi invece ieri c'è stata grande festa per la vittoria straordinaria, la giornata perfetta di Valentino Rossi che ha vinto a Barcellona e fa la pace con Marquez, addirittura insomma ieri grande giornata di sport, papà Graziano dice gongolando i sogni si avverano, mamma Stefania invece pensa al povero Luis morto. Insomma questa è la giornata, la fotografia di questa, vedete la stretta di mano tra Valentino e Marquez, sopra invece ancora qui la politica con il PD bastonata Mondolfa, Fossombrone e Trionfo Grillino e sotto invece la notizia che Papa Francesco ha scritto anche alla famiglia Tallevi, questa volta una famiglia di Fano, la famiglia Tallevi duramente colpita, duramente provata dalla tragedia di qualche mese fa sulla strada. Una delle vittorie più belle dicevamo, ma ora penso alla madre di Salom, mamma Stefania Barcellona e il figlio Felice, la tragedia però è ancora calda. I genitori di Valentino hanno seguito la gara in televisione dalle loro case, entrambi sono rimasti molto colpiti dal tragico incidente in cui ha trovato la morte il giovane pilota spagnolo Luis Salom. L'assessore Federici invece che è rimasto a Tavuglia dice qui le campane hanno suonato come al solito, sono stati pieni i ristoranti, contenti, molto contenti della riappacificazione con Marquez, insomma ecco questa 114esima vittoria per Valentino Rossi insomma è davvero una bella vittoria. Ora adesso è terzo, terzo in classifica, in classifica e quindi insomma con 103 punti dietro a Lorenzo che ne ha 115, a Marquez che ne ha 125. Andiamo adesso invece sulla pagina di Fano e Urbino del resto del carlino, dicevamo del desiderio del Papa di condividere il dolore insieme alla famiglia Tallevi, il pontefice solidale scrive una lettera ai parenti di padre e figlio morti in un incidente. Uno dei quattro fratelli, Simone Tallevi, dice queste righe sono state per noi una gradita sorpresa per me e per mia madre. Sopra invece a Guzzi come Robin Hood diamo ai poveri i soldi stanziati per il personale. Stiamo parlando di bilancio, previsione di bilancio del comune di Fano. Adesso sulla pagina di Pesaro del Corriere Adriatico è un errore riconvertire gli alberghi. L'architetto Leoni nel pool di professionisti impegnati nella riqualificazione delle strutture allo studio c'è l'ipotesi di ridurre o azzerare gli oneri di urbanizzazione in base alle tipologie di interventi. Frecce Tricolori, ieri una trasferta a Bellaria, mentre sotto un film sul delitto del catamarano, acquistati dal produttore Achille Natali i diritti del nuovo lavoro del regista Florio. E adesso l'altra pagina, Pesaro e provincia, da Fossombrone, i ladri smurano la cassaforte, colpo grosso in un'abitazione, segnalati altri furti nella stessa zona, mentre sempre da Fossombrone in arrivo il grande tennis, si è aperto il torneo Open nazionale, c'è attesa per Stefano Galvani, ex 104 al mondo, e poi la pagina di Fano del Corriere Adriatico con i vandali. Vandali che devastano il campo da rugby, nel fine settimana porte e panchine di velte, spogliatoi saccheggiati, è l'ennesimo episodio. L'amarezza del direttore dell'associazione sportiva che dice questo è un bene di tutto, azioni analoghe nel campo, nel parco giochi. E poi a Mondolfo il 112 è intervenuto, i carabinieri sono intervenuti per colmare un ubriaco di 55 anni, un disoccupato di Mondolfo che adatto in escandescenze urlava e inveiva in evidente stato di alterazione psicofisica. Poi da San Costanzo il giovane Sorcinelli con Elena vince tre premi al Festival di Catania, i titoli di miglior corto europeo, miglior regista, rivelazione, miglior attrice, protagonista. E poi il maltempo, il maltempo che Fano rallenta l'estate, bagnini delusi per l'occasione mancata del Ponte Festivo, ma dicono loro abbiamo tanti servizi, spiagge ancora poco frequentate in questo inizio di stagione, dopo quattro anni ritoccati anche i prezzi. Bene, io direi che possiamo fermarci qui se non ci sono altre notizie. Volevo far vedere la pagina del messaggero, ma ve la faccio vedere. No, non abbiamo tempo. Ok, ci fermiamo qui, dicevo, per quanto riguarda la nostra segna stampa, vi ringrazio, naturalmente la nostra redazione questa mattina si occuperà del dopo elezioni, cercheremo di raccogliere, raccontarvi un po' quelli che sono gli umori dal punto di vista politico e non solo di questa giornata. Questa sera alle 20.30 c'è il telegiornale, poi c'è anche il nostro sito internet, www.ternatocchianotizia.it che come sempre è aggiornato con le notizie, in particolare di cronaca, dell'ultima ora. Grazie per averci seguito e a voi tutti gli auguri di una buona giornata. Arrivederci. Grazie a tutti.